Vigili del fuoco, protezione civile, esercito, aeronautica e alpini sono tutti impegnati da martedì mattina per completare il montaggio del grande e rivoluzionario ospedale da campo che nelle scorse settimane il Qatar ha donato alla regione Veneto per il trattamento dei malati positivi al covid-19. L'enorme struttura sorge all'esterno dell'ospedale Madre Teresa di Calcutta, covid hospital ufficiale che per settimane è stato destinato esclusivamente al trattamento dei pazienti contagiati. La progressiva riapertura di altri reparti, tra cui quella recente del punto nascite, ha spinto ad attrezzare l'ospedale da campo provvisorio che con i suoi 500 posti letto e oltre 5.000 metri quadrati di superficie potrà a tutti gli effetti essere operativo già dei prossimi giorni. A fine emergenza la struttura sarà smontata e rimarrà a disposizione per altre situazioni di emergenza. Sul posto sono operativi 10 pompieri di Padova e Rovigo con due autogru per le fasi più complesse dell'installazione.